La mia impresa BlurDesign è nata nel 2007, sono sempre stato affascinato dagli audiovisivi. Nel 2007 ho fatto delle esperienze in Rai, come grafico e anche un po' di video editing appena ho concluso gli studi allo IED. Poi nel 2007 sono tornato a Napoli perché comunque sono fortemente attratto dalla mia terra e dal mio territorio e quindi sono tornato. Più che ostacoli un po' di disorganizzazione perché chiaramente all'inizio ci si deve organizzare, però adesso anche noi abbiamo fatto esperienza, ci siamo attrezzati e riusciamo quindi chiaramente a indirizzare i clienti verso soluzioni sempre più efficaci che ovviamente ci fanno risparmiare il tempo e quindi insomma siamo andando abbastanza bene. La componente digitale come la mia impresa penso che ha aiutato tantissime giovani le imprese perché chiaramente ha reso accessibile quello che prima era praticamente solo per pochi. Oggi i social sono il mezzo di comunicazione più efficace che esiste. Ai clienti web bisogna cercare di non dare noia sui server, sulle connessioni, sulla posta elettronica e quindi insomma sono felice di aver scelto il vostro servizio e insomma stiamo andando alla grande, non ho mai avuto problemi.